Aprile dolce dormire? Ma forse un tempo. Ora è il mese invece in cui molti docenti pensano a quali siano i migliori testi da adottare per il prossimo anno scolastico. Sappiamo che il governo aveva previsto inizialmente che sin dal prossimo anno tutti i testi sarebbero passati dal cartaceo al digitale. Invece c'è stato poi un dietro fronte ed è stato rinviato tutto di un anno. Ma è bene pensare che poi scatti l'anno prossimo l'ora X a tendere tutto senza far nulla? Noi pensiamo di no. Pensiamo che sia giusto utilizzare già il prossimo anno scolastico per sperimentare nuovi ambienti di apprendimento anche con dispositivi e produzioni multimediali e digitali. Per fare questo abbiamo pensato che una buona occasione per discuterne è il prossimo 10 aprile. Una giornata di studio in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, l'assessorato al diritto allo studio della regione Puglia e l'India di Firenze, ma soprattutto esperti e rappresentanze delle case editrici. Insomma c'è un bel po' di che divertirsi. Per gli interessati le iscrizioni sul sito www.marcopolobari.it oppure una mail a calia.marcopolobari.it Vi aspettiamo!